Musica Musica Ben ritrovati nel numero di oggi parleremo di sport e turismo a Cagliari si tiene l'ultima tappa del Sardinia Selling Cup e sono tanti gli italiani, gli istrianieri che grazie alla vela hanno scoperto la nostra città. Torneremo sul Capodanno, adesso ufficiale anche Gaia Uristano e manca solo il nome dell'artista che esibirà a Castelsardo. Parliamo anche di cibo attraverso la presentazione di un libro importante che ha riscoperto i piatti descritti nei romanzi del premio Nobel Grazia dell'Edda e anche del trionfo della Sardegna World Cheese Hour, il premio che mette in competizione, pensate, tutti i formaggi del mondo. Andiamo ad Azzara che ha ospitato l'autunno in Banal Bagia con un grande successo. Infine per la cultura, fine settimana sono visibili i capolavori di Egreco al Museo Man di Nuoro. Andiamo per ordine e sentiamo la Selling Cup firmato da Nicola Pissu. Un mese natale Cagliari città si conferma metadeale per ospitare grandi eventi legati al mare e alla vela e a quel binomio sport e turismo che porta in Sardegna, turismo appunto è indotto. Moltissimi atleti, coach, tecnici vengono qui, scoprono la Sardegna, vengono per partecipare alle gare e questo crea in loro una grandissima opportunità, la conoscenza di un territorio e molti di questi poi rimangono qui, tornano in Sardegna per allenarsi, per fare periodi di stage lunghi e fino ad arrivare, ormai abbiamo alcuni esempi, persone che si sono stabilite definitivamente in Sardegna. Italia, Svezia, Francia, Gran Bretagna, Austria, Singapore, le nazioni che hanno raggiunto l'isola per questo evento. Una grande soddisfazione di aver fatto in quest'ultimo mese, chiudendo con questo evento estremamente importante della parasailing, tanti eventi importanti e interessanti che hanno portato a Cagliari e in Sardegna centinaia di atleti che hanno potuto conoscere la Sardegna, capirne l'ospitalità e il senso, divertendosi in un posto meraviglioso. E ora si pensa già al prossimo anno. Un 2025 che darà ancora più soddisfazione allo sport della vela che, come dire, trova nella Sardegna e in Cagliari la sua sede naturale. Quindi viene bene e soprattutto facile programmare qualsiasi tipo di evento perché questa città e quest'isola non ha paura né riserve a organizzare qualsiasi tipo di evento con una partecipazione che lasciamo, come dire, alla volontà di chi viene in Sardegna. Intanto da Cagliari si guarda anche ai giochi paralimpici di Brisbane in Australia del 2032. E infine c'è quel segmento di turismo legato allo sport che intercetta un pubblico nuovo. Quindi ancora una volta connubio vincente tra turismo e sport. Adesso parliamo del Capodanno di Oristano. La cantante italiana di origine brasiliana Gaia si esiberà ad Oristano nella notte di Capodanno. Castel Sardegna invece attende ancora il nome del suo artista. Vediamo. Ora è ufficiale. Sarà Gaia ad aprire il 2025 ad Oristano. La 27enne cantante italiana di origine brasiliane si esibirà nella notte di Capodanno ai piedi della Torre di San Cristoforo. Vincitrice della diciannovesima edizione di Amici, dopo essere passata anche dal Talent Show di X Factor classificandosi seconda nel 2016, Gaia Gozzi ha dominato le classifiche estive di questo 2024 con il tormentone Sesso e Samba in collaborazione con Tony F. Tra i brani più celebri dell'artista, che varia dal pop all'urban fino al pop latino-americano, ci sono Boca in collaborazione con Sean Paul, Nuvole di Zanzara, Coco Chanel, Estasy e What Christmas Means to Me, versione metà in inglese e metà in lingua portoghese, dell'omonimo brano di Stevie Wonder. Il Capodanno di Oristano avrà così nel palco di Piazza Roma una delle cantanti del momento, capaci di attirare soprattutto i più giovani. Con l'ufficialità di Gaia si arricchisce ulteriormente il programma della Nota di San Silvestro in Sardegna. Si attende ancora l'artista per il concerto di Castelsardo, che lo scorso anno portò sul palco Mahmoud e che vuole confermarsi tra le mette predilette per il Capodanno in Sardegna. I nomi più quotati nelle ultime ore, a poco più di un mese dal 31 dicembre, sono quelli di Rama, che come Gaia ha vinto Amici, e il rapper di origini tunisine-gali, entrambi molto amati dai più giovani. In attesa di Castelsardo, invece, noi andiamo in Barbagia. Grande successo per la tappa di autunno, appunto, in Barbagia, ad Azzara. Migliaia di persone hanno visitato l'importante piccolo centro barbaricino. Vediamo i dettagli in questo servizio. Azzara, scrigno di tesori nel cuore della Sardegna, ha accolto con entusiasmo la tappa di autunno in Barbagia lo scorso weekend. Migliaia di persone, provenienti da ogni angolo dell'isola e diversi turisti, hanno invaso pacificamente questo incantevole borgo, riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia. Colori, suoni e sapori hanno caratterizzato il fine settimana in questo paesino di poco meno di mille anime. Oltre al fascino delle sue pittoresche vie, Azzara custodisce un patrimonio culturale di grande valore, testimoniato dalla presenza del Palazzo dei Conti di San Martino, un tempo residenza dei fiudetari e oggi simbolo del passato nobile del paese. Ma Azzara è anche terra di arte e tradizione. Le sue botteghe artigiane, rinomate per la produzione di tappeti e costumi tradizionali, rappresentano un'eccellenza che si tramanda da generazioni. E non si può dimenticare il vino Mandrolisai, un rosso robusto e generoso che trova qui la sua patria d'elezione. In tantissimi grazie ad abili suonatori non hanno saputo resistere alla tentazione di unirsi ai balli e ai canti della nostra tradizione. Autunno in Barbagia ha offerto l'occasione perfetta per immergersi nell'atmosfera autentica di questo borgo, tra storia, arte, artigianato e sapori genuini. Un'esperienza indimenticabile alla scoperta di un angolo di Sardegna di fascino e tradizione, un'occasione unica per visitare questi piccoli paesi in bassa stagione. Un'altra grande soddisfazione per la nostra terra, infatti, il trionfo dei formaggi sardi al prestigioso concorso mondiale dei prodotti caseari. Undici premi alla Sardegna, di cui sei al caseificio Garaudi Mandas, un riconoscimento che prima chiaramente anche i nostri allevatori. Ci racconta tutto Alessandra Addari. Non poteva mancare il formaggio sardo tra i vincitori del prestigioso premio World Cheese Awards, giunto alla sua 36esima edizione. Questa volta, però, per i prodotti caseari sardi è stato un vero trionfo. L'isola ha conquistato ben 11 medaglie, di cui ben 6 assegnate al caseificio Antonio Garaudi Mandas. La competizione mondiale, che mette in concorrenza i formaggi di tutto il mondo, 5.000 le tipologie di prodotti presenti alla competizione del 2024, provenienti da 40 diverse nazioni, ha riconosciuto dunque la grande capacità dei nostri caseifici di proporre al mercato sapori diversificati, capaci di accontentare un po' tutti i palati. Il caseificio Garaudi ha ottenuto diversi premi. Il Super Gold per il Cardureu, il pecorino semistagionato lavorato partendo dal caglio vegetale, il massimo livello dei riconoscimenti, la medaglia d'oro per il caprino Sugrabitu, realizzato con latte di capre allevate allo stato brado, l'argento per il pecorino Granduca di Mandas, per il formaggio vaccino semistagionato Sagontissa e infine per il pecorino stagionato il giunco. Medaglia di bronzo Assunuragi, formaggio pecorino da tavola, prodotto esclusivamente con latte di pecora fresco. Orgoglioso l'intero staff della famiglia Garau, casari dal 1880, che hanno tenuto a ringraziare tutti i collaboratori per questi importanti riconoscimenti. Le loro produzioni seguono una metodologia tradizionale. Le forme vengono infatti affinate in antiche cantine e lavorate a mano senza conservanti o additivi. Un riconoscimento che va anche ai tanti allevatori, ancora legati per la maggior parte al sistema del pascolo brado. Il latte è infatti l'elemento base che determina il sapore del formaggio, greggi che si nutrono di erbe speziate della macchia mediterranea e il cui profumo si trasferisce inesorabilmente al latte che producono. Adesso apriamo la pagina della cultura. Giovanni Fancello racconta il libro Grazia dell'Edda e il cibo, che ripercorre le citazioni gastronomiche presenti nella produzione letteraria del premio Nobel. Vediamo. Piatti, ricette e storia della tradizione culinaria sarda in un libro. Grazia dell'Edda e il cibo da un meri giorni nostri e il titolo dell'opera dello scrittore e gastronomo Giovanni Fancello è la giornalista Sara Chessa che sta raccogliendo grande successo. Lo presentiamo facendo parlare Grazia dell'Edda, leggiamo dei suoi passi. Il libro è una raccolta di tutte le sue citazioni gastronomiche dal 1888 al 1938. Sono oltre 50 anni, quindi anche le opere postume di Grazia dell'Edda. Sono più di 50 anni di analisi, di storia della cucina sarda. Il libro, frutto del lavoro fatto sulla bibliografia di Grazia dell'Edda, sottolina l'importanza della scrittrice premio Nobel nel far conoscere le tradizioni culinarie sarde anche fuori dall'isola. Lei dialogava e scriveva per gli italiani, quindi alcune volte per rendersi comprensibile usava delle traduzioni. Però fa un lavoro preziosissimo. Prima che la storia della gastronomia prendesse la Cassardegna in considerazione, lei nel 1891, a 20 anni, scrive delle poesie gastronomiche incredibili, descrivendo una cucina di muro, che poi è la sua, con tutti i dettagli di ciò che componerla, quindi le materie prime per creare cibo. La grande rivoluzione sua è prima che gli storici prendano in considerazione la cucina che chiamano regionale di Sardegna, lei ne aveva già scritto a piene mani e nessuno l'aveva presa in considerazione. E Grazia dell'Edda il cibo è stato accolto in maniera più che positiva dal pubblico. Ma sta andando molto bene. Ieri l'editore mi ha chiesto ma come ti è andata a Belvì? Ma il libro lo vogliono tutti come se fossero ciliegie. No, mi è andata molto bene. L'ho presentata a Vimodrone al Circolo dei Sardi di Vimodrone. Adesso l'ultima presentazione domenica scorsa a Belvì e veramente non avevo abbastanza libri da soddisfare tutta la richiesta. Rimaniamo sul segmento Cultura dopo il dialogo ideale tra Giotto e Fontana il Museo Man di Nuoro vara un nuovo e inedito progetto. Accosta due capolavori di El Greco, celebre maestro del Siglo de Oro di servizio e di Gianfranco Loci. Vediamo. Questo è un Salvatore Mundi o è un Cristo benedicente della Musei Civici di Reggio Emilia. Qui è proprio già lui nelle sue caratteristiche straordinarie per cui come si può vedere da queste forme allungate soprattutto dalla sua tipica luce lunare. Quella luce lunare che incanta e che adorna le sale del Museo Man di Nuoro è la firma di El Greco, il suo tratto distintivo. El Greco dal mio punto di vista era un pittore che ha cambiato radicalmente il modo di fare pittorica per l'epoca sua e ha lanciato le basi per le epoche future. Dopo il dialogo ideale tra Giotto e Fontana il Manvara ha un nuovo progetto inedito. Accosta due capolavori di El Greco, celebre maestro del Siglo de Oro. Li fa dialogare. Cosa ha di speciale quel capolavoro alle sue spalle? È un capolavoro ritrovato, quindi è in assoluto un'anteprima di un quadro di El Greco che è stato ritrovato solo cinque anni fa mentre prima era attribuita a un pittore sconosciuto del tutto anonimo della scuola veneta. È uscita dai depositi, restaurata ed è la prima volta che viene presentata a noi ed è un'adorazione dei magi di grande dimensione con dei dettagli meravigliosi che tradiscono gli anni giovanili di El Greco prima che lui diventasse El Greco. Molti lo hanno definito il della croix del rinascimento Cezanne e Picasso lo hanno amato. L'autore di Guernica rimarcava spesso la sua ammirazione pronunciando la frase Io so gli El Greco. Adesso la magia di El Greco sarà nuoro fino al 23 febbraio. Il visitatore e gli studiosi potranno apprezzare anche proprio la materia pittorica del dipinto avvicinandosi e vedere la qualità artistica e la preziosità delle pennellate. Non solo El Greco, per il ciclo Essenze Naturali fino al 9 marzo il Museo Barbaricino accoglierà pure con tre mostre personali. Cristiane Loro, Una Zemane e Alessandro Biggio racconteranno il mondo naturale attraverso punti di vista differenti. Con la bellezza finisce il nostro magazine. Grazie per averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.